Del corso mi è piaciuto tutto, mi piace tantissimo Patrizia, mi piace lo staff perché sono tutti veramente fantastici. L'energia di questo gruppo è stata bellissima come anche quello del primo live, è un'energia veramente pazzesca che anche se uno è chiuso e non vuole viene comunque coinvolto. Lo consiglio perché il lavorare su di sé, anche se ognuno di noi pensa che non ce ne sia bisogno, è una cosa fantastica, ti smuove e ti fa capire proprio che anche le cose più semplici che hai davanti, che sembrano impossibili da raggiungere, da smuovere e tutto quanto, non c'è mai limite al niente perché noi siamo veramente delle anime potenti, ognuno di noi e Patrizia te lo fa veramente comprendere. Nel mio caso il primo live che ho fatto ho assorbito tanto, percepito tanto, Patrizia dal vivo è già fantastica di suo anche tramite Facebook o altro, ma dal vivo è una cosa super. e questa mattina sono stata un po' la piagnona della giornata perché mi ha veramente sconvolto il mio ego che era quello che mi bloccava nel posso farcela surrealizzare un sogno o surrealizzare qualsiasi cosa di me stessa ed è stata nel mio caso una mattinata veramente impegnativa, ma che adesso mi ha portato tanto sollievo, tanto sorriso che era un po' che non avevo. Ciao Patrizia, ci voglio bene, ti amo, vi amo tutti e grazie di esserci e grazie di coinvolgermi sempre, come tutti d'altra parte. Grazie.